La vita non è un gioco, è il titolo scelto per la collaborazione tra l'Az di Brindisi e il teatro pubblico pugliese, insieme ai Meridiani Perduti e il regista Salvatore Salvemini, in una collaborazione di prevenzione e informazione contro tutte le dipendenze, ed in particolare contro la ludopatia. Sento di dire che tutte le dipendenze sono delle condizioni serie che devono essere riconosciute in maniera tempestiva e per far questo è importante anche una campagna di sensibilizzazione importante e sicuramente il teatro pubblico pugliese, con i propri attori, con le proprie campagne, può avvicinare il maggior numero possibile di persone che purtroppo soffrono di questo tipo di patologia. Utilizziamo lo strumento del teatro e dell'arte per trasmettere valori, valori sani, il gioco sì, c'è la possibilità di giocare, però dobbiamo prevenire forme strane, eccessive e patologiche di gioco. Serve questo incontro a diffondere una nuova modalità di comunicazione per cercare di attirare più persone possibile nelle maglie protettive di una rete di cura, che è quella che viene fornita dalle aziende sanitarie, in particolare dall'Asto di Brindisi. Aspettando la cuccagna è un cortometraggio realizzato dalla Puglia Film Commission in collaborazione con la Fondazione Conil Sud, allo scopo di promuovere l'attività di contrasto alla ludopatia.